Eccoci qua, siamo arrivati al 6 febbraio. Vediamo anche oggi cosa ci propone il libro dell'anno. Versetto di oggi, primo re 1821. Fino a quando zoppicherete voi dai due lati? Se l'Eterno è Dio, seguitelo. Se poi lo è Baal, seguite lui. Sì, un versetto molto importante. Insomma, ci invita alla coerenza. Se diciamo di credere in Dio, seguiamo Dio, crediamo in tutte le parole di Dio, affidiamoci a Lui, lavoriamo per Lui, preghiamo. Non dobbiamo zoppicare, dire di credere in Dio e poi comportarci un po' da cristiani a un po' invece secondo il mondo. Dobbiamo essere chiari, profondi, onesti, decisi, impegnati nella verità. Non dobbiamo zoppicare. È tremendo zoppicare. Vuol dire non avere fiducia. Invece crediamo in Dio? Se l'Eterno è Dio, seguitelo. Se lo è Baal, allora seguitelo. Se voi credete che tutti gli idoli di questo mondo siano il vostro Dio, seguiteli. Ma in realtà noi sappiamo che è il vero Dio, è il nostro Dio, il nostro meraviglioso Padre Celeste. E si è rivelato nel Signore Gesù che è tutti i giorni con noi, vicino a noi, che vive con noi, che vive in noi per mezzo dello Spirito Santo. Quindi nessun dubbio, nessun tentenamento. Se l'Eterno è Dio, seguitelo. È l'esortazione di oggi. I motti. Tutto dipende dalla preghiera. Tutto dipende dalla preghiera. È uno strumento che ci è stato dato, è un'arma meravigliosa e dobbiamo utilizzarla. E noi possiamo condizionare tutto con la preghiera, perché Dio risponde sempre alle preghiere. Anche se a volte non proprio congoleremo a noi, ma lui risponde sempre. E quindi la potenza di Dio attraverso la preghiera si manifesta. E possiamo davvero dire tutto dipende dalla preghiera. Chi vive nella luce non cammina mai nel buio. Chi vive nella luce non cammina mai al buio. Scusami. Non cammina mai al buio o nel buio. Chi vive nella luce. E noi siamo nella luce, siamo in Gesù. Noi abbiamo la luce, abbiamo lo Spirito Santo in noi quando siamo credenti. Allora non siamo mai nel buio. Anche quando fuori c'è buio, c'è buio per me adesso. Però noi in realtà siamo sempre nella luce. Ha detto Gesù, io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma farà la luce della vita. Quindi noi siamo sempre nella luce grazie al Signore Gesù che vive in noi. Parliamo di italiani analfabeti. Vediamo perché. È vero, è drammatica la situazione. Sentite questi dati. Calcolatrici e telefonini hanno stravolto capacità di calcolo e comunicazione. Un terzo della popolazione italiana ha difficoltà di lettura, scrittura e conteggio. E un altro terzo supera questa difficoltà, ma non va oltre. L'8,4% dei laureati ha difficoltà di scrittura. Un altro 25,3% dispone di capacità solo un po' più elevate. Il 48,2% se la cava. E soltanto il 17,9% dispone di una competenza alta o molto alta in questo campo. Parliamo anche di laureati. Sì, sì, è incredibile la situazione, ma è proprio la verità. Eh sì, cellulari, telefonini, internet, ormai c'hanno un attimo. Mi ricordo da piccolino, non te lo ricordi, in un negozio è andata via la luce e la commessa. È andato che aveva la cassiera, una delle prime elettroniche. perché era in panico e non riusciva a fare i conti della spesa. Non so se ti ricordi. Abituate alla cassa, alla calcolatrice. Oppure vai in un ufficio, non so, e ti fanno 20 più 10 e te lo fanno alla calcolatrice. 20 più 10, ah, 3. Eh, ma non è una battuta, è proprio vero. Ormai è incredibile. Allora, oggi leggiamo sia il 6 febbraio e il 7 febbraio riguardo i dieci comandamenti secondo il catechismo cattolico e i dieci comandamenti secondo la Bibbia. Allora, il primo è uguale per tutte e due. Io sono il Signore Dio tuo. Non avere altro Dio fuori che me. 2. Parte cattolica. Non nominare il nome di Dio in vano. Parte dei comandamenti secondo la Bibbia. Non ti fare scultura né immagine alcuna. Questo non c'è nel decalogo cattolico, ovviamente. Eh sì, l'hanno tolto perché sono infinite statue, infinite immagini, allora hanno tolto il comandamento. Santi, santini. 3. Parte cattolica. Ricordati di santificare le feste. Questo è anche la parte dei dieci comandamenti secondo la Bibbia. Il 4. Onora il padre e la madre. Parte cattolica. 4. Ricordati di santificare il giorno di sabato. I cattolici intendono la domenica e le loro feste, ma l'hanno inventato loro. Infatti il sabato riguarda gli ebrei. 5. Non uccidere. Stessa cosa da parte dei dieci comandamenti secondo la Bibbia. 6. Uguale. Non commettere atti impuri. 7. Parte cattolica. Non rubare. 7. Parte dei comandamenti secondo la Bibbia. Non commettere adulterio. 8. Non dire falsa testimonianza. 9. Non desiderare la donna ad altri. 10. Parte cattolica. Non desiderare la roba ad altri. Parte, secondo la Bibbia, comprende 9 e 10 dei cattolici. Hanno dovuto separarli perché hanno eliminato quello delle statue e delle immagini. Hanno dovuto eliminare quello e allora hanno diviso l'ultimo. Molto interessante. Ma sì, interessante come a volte le religioni riescono a modificare anche il testo della Bibbia per adattarlo alle loro consuetudine. Rileggo velocemente i dieci comandamenti secondo la Bibbia. Io sono il Signore, Dio tuo, non avere altro Dio fuori che me. Non ti fare scultura né immagine alcuna. Ricordati di santificare le feste. Ricordati di santificare il giorno di sabato. Non uccidere. Onora il padre e la madre. Non commettere atti impuri. Non commettere addutterio. Non dire falsa testimonianza. Non desiderare la donna ad altri. E il 10 comprende il 9 e il 10 dei cattolici che hanno dovuto separarli perché hanno eliminato quelle due delle statue e delle immagini. Poi chi ha il libro dell'anno li può vedere attentamente. Per riceverlo basta mandare una mail con indirizzo postale completo. e ve lo inviamo tutto volentieri. Poi soggetti di preghiera. Preghiamo per una persona a cui oggi darò un opuscolo, un Vangelo. Sì, poniamoci questi piccoli impegni ma importantissimi. Da questi piccoli opuscoli potrebbe scaturire una nuova vita. Preghiamo per la diffusione di stampa evangelica. Diffusione di stampa evangelica. Nelle guerre i bambini ricevono danni fisici e violenze psicologiche. Psicologiche preghiamo. Sì, per i bambini in situazioni di guerra. Preghiamo per i popoli aborigeni dell'Australia. I popoli nativi dell'Australia. E la preghiera di tutti gli stati del mondo oggi Repubblica Centroafricana. 3 milioni e 68 lingue. Repubblica Centroafricana. Bene. Ripetiamo anche oggi allora i motti e il versetto. Due bellissimi motti. Oggi tutto dipende dalla preghiera. Tutto dipende dalla preghiera. Ricordiamo un'arma straordinaria la preghiera. Parlare con Dio e far sì che Dio si metta ad agire nei vari soggetti che gli porteremo. Un'arma straordinaria che troppo spesso noi trascuriamo. Riprendiamo passione per la preghiera. Chi vive nella luce non cammina mai al buio. Chi vive nella luce non cammina mai nel buio. Per camminare nella luce come sempre dobbiamo ricordare che in Gesù si può camminare nella luce. Solo in Gesù. Tutto il resto è tenebre. Tutto il resto è buio, oscurità. Solo in Gesù si può camminare nella luce. Solo con Gesù. E questa salvezza, questa luce è gratuita. È la grazia di Dio. Basta guardare a Gesù e dire eccomi. Voglio vivere con te. Voglio la tua vita. Voglio la tua salvezza. Grazie perché sei morto per me. Hai pagato la pena che avrei dovuto pagare io. E adesso eccomi. Fa di me ciò che vuoi. Usami. Perché altri possono ricevere questa luce. Questo è il nostro impegno. Chi vive nella luce non cammina mai. Perfetto di oggi. Primo re 18.21. Fino a quando zoppicherete voi dai due lati. Se l'Eterno è Dio, seguitelo. Se poi lo è Baal, seguite lui. Questa è un'esaltazione molto forte che vogliamo lasciare oggi nel vostro cuore. Fino a quando zoppicherete voi nei due lati. Se l'Eterno è Dio, seguitelo risolutamente, senza tettennare, senza paura, senza esitazioni. Se l'Eterno è Dio, seguitelo con tutto voi stessi. Questa è la nostra forza, la nostra vita, la meraviglia della nostra vita. Se l'Eterno è Dio e è Dio, seguitelo. Se lo è Baal, seguitelo. Se volete seguire tutte le idiozie, le cattivelle di questo mondo, tutte le pazzie di questo mondo, allora seguitelo, d'accordo? Ma se l'Eterno è Dio, non vivete con sufficienza, con indifferenza, ma seguitelo risolutamente, con tutta la vostra vita. Questo è quello che ci dice oggi la parola di Dio. A presto!